Ciao amici di AC Milan Inside, manca davvero poco all'inizio del Socher Champions Tour, la triade di amichevoli estive che si terranno negli Stati Uniti e che vedranno il Milan impegnato contro il Manchester City, il Real Madrid e il Barcellona. Non saranno ancora a disposizione di Mr. Fonseca alcuni dei nostri big tra cui Magnan, Tevernandez, Reinders e Morata che impegnati durante quest'estate con le nazionali faranno direttamente rientro a Milanello. Tornati in tempo e quindi presenti invece Jovic, Pulisic, Mosa, Leao e Okafor. Cinque invece i giovanissimi convocati, oltre i tre portieri Ravier, Nava e Torriani, anche il classe 2005 attaccante Conca e il 2007 Liberali. Presenti anche con la squadra in America saranno Colombo, destinato all'Empoli, Marco Nasti che disputerà il prossimo campionato in Serie B e Daniel Maldini, notizia da poco acquisita che sembrerebbe essere stato acquistato a titolo definitivo dal Monza. In ultimo, disponibile e super osservato, Alexis Salemakers. E voi, come me, seguirete questa torna estiva? Fatecelo sapere nei commenti e ricordate di seguirci sui nostri canali social. Ciao a tutti, buona estate e sempre Forza Milan! Un bacio!